In itinere di roccia, fuoche e avventure sotterranee, sono le nuove mostre del Maxi L'Aquila che uniscono la scienza alla pre-storia in un viaggio fatto di foto e installazioni. Un'installazione multicanale dei Masbedo, le foto di Armin Link e Claudia Paieschi, il racconto fantascientifico di Kao Fei, l'omaggio al maestro Nagasawa e ancora 120 immagini di 5 fotografi fino al metaverso con l'opera di Milton Manetas. C'è queste anche di più nelle nuove proposte del museo che abiteranno il Maxi fino al 12 giugno 2022. Sono le prime mosse del 2022. Con in itinere c'è anche la collaborazione con Munda, Laboratori del Gran Sasso e Gran Sasso Science Institute, presente e passato, che si uniscono e intersecano con la presenza del castello, del mammut e del lavoro fatto all'interno dei laboratori del Gran Sasso. Con di roccia invece si raccontano le meraviglie delle viscere della terra e la nascita di 5 opere infrastrutturali in cantieri disseminati in tutto il mondo, grazie a 5 fotografi, tre più interessanti del momento. Mi piaceva restituire questa dimensione che dalla scienza arriva fino al tempo preistorico, quindi dai laboratori del Gran Sasso al mammut, passando per la storia, per il castello, raccontando quello che è la realtà di questo territorio, di come si sta riprendendo, di come guarda verso il futuro senza dimenticare quello che è stato, senza dimenticare da dove viene, le sue radici. Ecco, qui abbiamo degli artisti contemporanei che l'hanno guardato con uno sguardo nuovo, inedito, molto sorprendente, molto vivo anche, perché il museo esce dalle proprie mura, si mette in contatto con la realtà esterna e diventa un polo in cui far accadere delle cose. Ci sono anche due special project che completano il momento espositivo, Kaofei e Detoshi Nagasawa, i cui lavori sono nella project room e nella corte esedra di Palazzo Ardinghelli, tutti lavori molto interessanti, in un museo che dalla sua nascita ha avuto già un gradimento importante, con oltre 20.000 visitatori.